Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura sempre l'emergenza sanitaria. Prosegue la campagna vaccinale con un nuovo record di vaccini e si attende il risponso su Johnson & Johnson. Spazio anche alla cronaca con l'operazione dei carabinieri. 6 persone riconducibili al clan Mazzarella sono finite in manette per estorsione. Sequestrate dalla finanza 10 tonnellate di sigarette di contrabbando provenienti dall'Europa dell'Est. Truffa delle coperture assicurative. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Ascoli. individuate anche 6 persone residenti nel napoletano. In chiusura il ricordo della nipote, del maestro Vito Esposito, ai microfoni di TV City. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Campagna vaccinale per Covid-19 che prosegue dopo le criticità delle scorse settimane legate agli effetti collaterali di AstraZeneca e allo stop dell'EMA sui vaccini Johnson & Johnson. Le vaccinazioni, come sottolineato dal ministro della Salute Roberto Speranza, hanno avuto forte incremento negli scorsi giorni, riuscendo a toccare cifre record nelle somministrazioni giornaliere. Nel fine settimana, in Italia, le dosi somministrate in un giorno sono state oltre 300.000. L'Italia, su tutto il territorio, ha utilizzato l'83,3% delle dosi di vaccino consegnate. Resta però da recuperare il deficit di una partenza non adeguata ai rallentamenti delle scorse settimane. Infatti, mentre iniziano a spuntare i primi paesi che raggiungono l'immunità di greggio, l'Italia è ancora impigliata agli over 80, categoria maggiormente a rischio. Gli anziani oltreottantenni, che ad oggi hanno ricevuto la prima dose, sono il 76%, mentre solo il 45% è ad oggi immunizzato. L'attenzione resta alta per le altre categorie fragili, a preoccupare maggiormente la categoria dei cittadini di età compresa tra 70 e 79 anni. Gli over 70, a cui è stata inoculata la prima dose, sono solo il 30%, entrambe le dosi il 3,4%, lasciando oltre 4 milioni di cittadini ancora in attesa di convocazione per la prima somministrazione. Campagna vaccinale che prosegue anche a Torre del Greco. Ad oggi, da quanto si apprende dai dati dell'azienda sanitaria locale, le dosi somministrate sono 10.000, circa 3.000 in più rispetto alla settimana precedente. Gli over 80 vaccinati sono 3.590, mentre coloro di età compresa tra 70 e 79 sono 518. Partita anche la vaccinazione per gli over 60, con 140 dosi già inoculate. Sguardo anche ai cittadini disabili con 52 vaccinati. Il governo italiano è pronto con i nuovi piani vaccinali e punta, nella prima decada di giugno, di riuscire a vaccinare almeno con una prima dose gli over 60, fascia nella quale, durante l'ultima ondata, si sono registrati maggiori decessi. Un obiettivo arduo, ma non impossibile. Le dosi arrivate in Italia degli ultimi giorni del 2020 sono ad oggi circa 14 milioni, che dovrebbero triplicare nel breve periodo, stando alle dichiarazioni del generale Figliuolo. Resta quindi decisivo il risponso che ci dirà se poter contare sulle dosi di Johnson & Johnson. Il vaccino statunitense, per le sue modalità di conservazione e somministrazione, consentirebbe senz'altro di velocizzare in modo sostanziale la campagna vaccinale italiana. Non ci resta quindi che attendere l'EMA su Johnson & Johnson, risponso fissato nella giornata di oggi. Nelle prime ore della mattinata odierne, il nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei soggetti, due già detenuti per altra causa e quattro, tra cui una donna, liberi, emesso dalla sezione GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. La vicenda che ha portato all'emissione del provvedimento cautelare trae origine dalla denuncia asporta nel mese di ottobre 2017 da un soggetto di origini napoletane, già titolare di attività commerciale, stanziatosi in provincia di Varese. Le attività investigative coordinate dalla DDA hanno permesso di contestare agli indagati il reato di estorsione, aggravato dalle modalità mafiose. Tra le persone sottoposte ad indagini figurano D'Amico Salvatore, Agas Opirata, noto esponente dell'omonima famiglia Malavitosa, operante nel quartiere San Giovanni a Teduccio, nel comune di Napoli, articolazione del più importante clan Mazzarella, nonché Baldassarre Massimiliano, Agas O Serpente, soggetto ritenuto legato a contesti di camorra del comune di Santa Anastasia. Dai fatti contestati emerge che la vittima, nell'anno 2017, trovatosi in gravi difficoltà economiche, si rivolgeva ad un suo ex cognato per avere un prestito in denaro dell'importo di euro 4.700, con la promessa di restituire l'intero capitale unitamente 1.000 euro a titolo di interessi. Per la restituzione del capitale e degli interessi, il denunciante aveva incaricato il fratello, che nell'eseguire il pagamento per l'estinzione del debito veniva tratto in inganno da uno dei soggetti, colpiti dal provvedimento, e in luogo di consegnare la somma di denaro ai soggetti che avevano provveduto all'erogazione del capitale, ossia Baldassarre Massimiliano, gli consegnava D'Amico Salvatore, fino alla montare di euro 3.900. Per farsi consegnare il denaro D'Amico Salvatore, proferiva minacce nei riguardi del fratello del denunciante, intimandogli anche che, se non avesse consegnato la somma di denaro richiesta, avrebbe portato via tutte le autovetture dei suoi parenti su Napoli. I soggetti a questo punto usavano violenza e minaccia al fine di rientrare in possesso del prestito in precedenza concesso, oltre alla somma ulteriori euro 1000 da corrispondere a titolo di interesse. Il nucleo di polizia economico-finanziario della Guardia di Finanza di Napoli, sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia partenopea, ha dato esecuzione tra il capoluogo, i quartieri di San Giovanni a Teduccio, Secondigliano, Giuliano in Campania e Melito, ad un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, che ha disposto l'applicazione di misure cautelari nei confronti di un'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. I quattro indagati, due agli arresti domiciliari e due destinati di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sono gravemente indiziati di aver introdotto in Italia dai paesi dell'est Europa, attraverso trasporti su gomma, sigarette di contrabbando destinate ad alimentare il mercato clandestino campano. Due di essi risultano anche aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. L'esecuzione degli odierni provvedimenti cautelari costituisce l'epilogo di investigazioni condotte dagli specialisti del GICO, eseguite attraverso l'incrocio dei dati risultati dalle attività tecniche di osservazione, controllo, pedinamento e dai riscontri operativi che hanno portato nel mese di agosto del 2019 all'arresto di un pregiudicato e al sequestro di oltre 4 tonnellate di sigarette di contrabbando. Dalle indagini è emerso che l'organizzazione ha movimentato complessivamente oltre 10 tonnellate di sigarette di contrabbando. Una vicenda sicuramente singolare quella scoperta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno che nell'ambito di un'indagine di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica ha individuato tre persone tutte residenti a Napoli truffatori seriali che vendevano polizie assicurative per auto false. L'attività, partita da una querela presentata da un cittadino dell'entroterra Piceno è stata incentrata verso l'oggetto del contendere una polizza per auto la più classica delle assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile per la quale lo stesso aveva corrisposto all'importo richiesto di 232 euro versandolo su una carta del tipo ricaricabile risultata poi intestata ad un trentenne di Napoli. Nessun ricorso da parte della vittima ad assicurazioni dal nome dubbio o sconosciuto, spesso trappole che promettono consistenti risparmi anzi, la compagnia prescelta era stata una di quelle tra le più note di affidabilità e, come da copione, aveva provveduto anche ad inviare il certificato assicurativo e la relativa documentazione. Tutto falso, però. L'amara scoperta è arrivata nel corso di un controllo di polizia su strada, allorquando l'originalità del predetto tagliandino assicurativo è stata disconosciuta dagli agenti, in quanto non presente nella banca dati ufficiale dei veicoli circolanti. Sulla scorta della querela presentata dal malcapitato, le indagini sono state incentrate verso la carta ricaricabile del trentenne napoletano e di quelle, ulteriori, rilevate nel circuito delle polizie assicurative della stessa compagnia, risultate alla fine 23, di cui alcune estinte ed altre invece bloccate per uso scorretto. Persone per lo più gravate da pregressi precedenti per truffa proprio in relazione all'emissione e alla vendita di polizie false in diverse località del territorio nazionale. Alla luce della potenziale moltitudine di persone truffate dalla specificità dei precedenti di polizia degli intestatari delle carte ricaricabili sono state tuttavia analizzate attentamente dalle fiamme gialle anche con l'ausilio dei militari del comando provinciale di Napoli che hanno intrapreso l'attività di approfondimento di ogni singola operazione. Veniva così acclarata la prima responsabilità penale nei confronti del trentenne di Napoli che aveva incassato 232 euro e a seguire quelle di ulteriori altre due persone sempre partenopee denunciate quindi alle locali autorità giudiziarie. Le indagini consentivano di identificare anche una platea di vittima delle truffe giunte alle false compagnie di assicurazioni attraverso canali internet e social network. Sono stati gli ulteriori accertamenti della polizia economico-finanziaria a rilevare il riconoscimento in capo al trentenne di Napoli ad altre sei persone anch'esse tutte partenopee e coinvolte a diverso titolo nelle indagini della misura di sostegno del reddito di cittadinanza. Per tutti e sette i soggetti è scattata la denuncia alle autorità giudiziarie in relazione a 55.000 euro già indebitamente percepiti che, grazie alle successive azioni di recupero, torneranno nelle casse dello Stato. Ammonta quindi a 36.000 euro l'importo del reddito di cittadinanza già riconosciuto ma non ancora riscosso dal gruppo, ora bloccato grazie all'iniziativa delle fiamme gialle picene che provvederanno anche a segnalare i connessi danni erariali alle corte dei conti e sul fronte fiscale a considerare i profitti illeciti per l'assoggettamento a tassazione. Ad oggi sono migliaia le carte relative alle istrutture del reddito di cittadinanza presentate nella provincia di Ascoli Piceno oggi al vaglio della Guardia di Finanza. Negli studi di TVC Tim Palomba, nipote del maestro e artista Vito Esposito, purtroppo recentemente scomparso. Un suo ricordo dell'uomo, dell'artista e del nonno. Mio nonno è stato un nonno straordinario, un grande artista, uno di quelli che meglio di chiunque, almeno per me che sono la nipote, è riuscito a dare valore alla città di Torre del Greco con tutte le sue opere. Io credo che nella casa di ogni torrese ci sia una sua opera. Dalle marine, dai paesaggi che ritraggono Porto Salvo, ma anche qualcosa che riguarda i paesaggi con lo sfondo del Vesuvio oppure le ultime opere che ritraggono l'Immacolata, la nostra Basilica oppure i ritratti del Santo San Vincenzo Romano. Io credo che davvero sia uno di quelli che è riuscito a dare un contributo concreto all'importanza a livello artistico della nostra città. Infatti ricordo uno dei dei suoi ultimi lavori proprio l'anno scorso all'inizio della pandemia della Basilica della nostra città con questo bellissimo arcobaleno che sovrastava questa questa nostra immensa piazza. È stata una delle uno dei suoi uno dei suoi modi per dire andrà tutto bene. So che andrà comunque tutto bene noi nipoti insomma ci siamo confrontati tra di noi in questi giorni e abbiamo ricordato questi bellissimi cieli che solo lui sapeva dipingere questo celeste mescolato a rosa e sono sicura che quando vedremo questi colori riusciremo ancora a ricordare un modo di dipingere unico che solo lui poteva io infatti penso se mi capita di vedere un arcobaleno allora penso che sia stato davvero lui a volerci dare un ultimo messaggio così come ha fatto nel quadro dell'anno scorso con questo arcobaleno sulla nostra Basilica. Un uomo straordinario un grande artista affrontava le difficoltà della vita con il sorriso mi ha trasmesso la passione per l'arte nei ricordi di Imma Palomba nipote del maestro Vito Esposito recentemente scomparso all'età di 87 anni il senso di un legame senza tempo cosa le mancherà di più? Mi mancherà il suo modo di parlarmi di pittura di arte il suo modo di a livello artistico questo visto che mi ha trasmesso questa passione a livello umano mi mancherà il suo modo di affrontare tutto sempre con un'enorme ironia mio nonno era di un'allegria unica l'unica nel suo modo di fare di pensare di ragionare anche nei momenti di difficoltà appunto lui era uno di quelli che riusciva sempre a trovare il buono in tutto anche in un momento difficile riusciva a risollevare tutti noi sempre con il suo modo di fare cioè con la sua pittura a modo suo diceva andrà tutto bene e noi ci crediamo ancora che andrà tutto bene nonostante tutto Lei ha seguito le orme del nonno nella sua professione di docente oggi? Sì attualmente insegno anche se da poco e diciamo con la sua guida che adesso ho la passione per l'arte per la pittura ho studiato architettura quindi sono un architetto e lui mi ripeteva sempre a me piacerebbe tanto vederti insegnare perché riusciresti bene in questo e sono contenta di averlo reso fiero reso orgoglioso così come tutti i nipoti l'hanno reso orgoglioso lui ha insegnato tanti anni quindi ancora oggi quando mi rapporto con i ragazzi lo faccio sempre portando un po' di insegnamento del nonno perché non è stato solo un nonno per me ma proprio un maestro un maestro d'arte o un maestro di vita? un maestro d'arte o un maestro di vita sicuramente per questo è difficile da dimenticare per questo io porto addosso tutto quello che ha potuto insegnarmi dal livello umano al livello professionale tutto grazie a lui tanto ha dato alla vita artistica di questa città tanti sono stati in questi giorni i messaggi di cordoglio tantissimi io sono rimasta entusiasta di questo calore che ci ha dimostrato tutta la città di Torre del Greco dal sindaco all'amministrazione comunale tanti artisti illustri che hanno voluto ricordarlo tanti amici veramente ho avuto tantissimi messaggi io come mio zio mia madre e la mia famiglia insomma siamo davvero grati di questo ricordo che ognuno ha voluto dare a modo suo al nonno grazie di cuore davvero con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG vi ricordo che per info e segnalazioni potete scriverci inviando una mail all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484 con questo è veramente tutto grazie a tutti per la cortese attenzione grazie a tutti